Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per il calcio italiano. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma purtroppo tutto è accaduto improvvisamente. I dettagli sono davvero molto seri. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, in queste ore il calcio italiano è in lutto. Si tratta di qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha provocato dispiacere non solo in una comunità ma nel calcio in generale. Infatti si è spento per sempre Pierluigi Branduardi, di anni Ottanta, grande portiere della Pro Vercelli. Le sue imprese sul campo da calcio resteranno per sempre impresse nella mente dei tifosi locali e non solo. Egli era una persona dall'animo buono e generoso che ha continuato a seguire il calcio anche dopo il suo ritiro. Prima di perdere la vita non ha potuto assistere al suo inserimento nella Hall of Fame della Pro Vercelli, che lo ricorda oggi con tantissimo affetto.